Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video ragazzi in questo nuovo tutorial di spiegare come aumentare gli FPS su Palworld Ovviamente come puoi vedere la differenza tra il lag è un po' fluido su Palworld Quindi in questo caso in descrizione ti ho lasciato un link che ti potrà utilizzare su Mediafire per scaricare il programmino Nvidia Profile Inspector Ed eccolo qua Ovviamente è una cartella con un programma già preinstallato quindi è un pacchetto raro Devi estrarre il pacchetto raro e all'interno della cartella troverai Nvidia Profile Inspector Ed eccolo qua Questo programmino ci permetterà di ridurre così la grafica al gioco, la texture e altre cose riguardo alla shader Di abbassarla del tutto e fare anche un filtro soprattutto come puoi vedere Texture filtering noi qui andiamo ad abilitarla e poi faremo delle modifiche Ovviamente prima di fare tutto questo andiamo un attimo sul pannello di controllo di Nvidia Quindi ti ho lasciato in descrizione anche il pannello di controllo di Nvidia che sarebbe questo qua Questo qua Vai su impostazioni programma Ma io ovviamente ho fatto delle modifiche ad alcuni giochi Quindi se tu vai su aggiungi, fai sfoglia Vai sul tuo volume dove hai scaricato così Palworld Palworld, eccolo qua Metti così l'applicazione e fai apri Ed eccolo qua Ovviamente già avevo salvato alcune impostazioni Eccolo qua Ridimensionamento immagine che sarebbe la nitidezza Quindi se tu metti su attivato aumenterai la nitidezza ma laggerai Però vedrai Palworld una meraviglia Però metti disattivato per ridurre così la nitidezza L'anti-LS questo qua lo metti disattivato Scendi fino a giù fino a trovare anche il filtro anisotropico Disattivato Tipo per esempio il pavimento non lo vedrai Tipo renderizzato molto bene ma un po' sfogato Ok? Sfogato Filtro struttura mettiamo consenti Filtro struttura ottimizzazione i campioni Metti attivato E l'altro filtro struttura attivato Filtro struttura qualità prestazioni elevate Scendi fino a giù fino a trovare il GPU rendering OpenGL E metti così la tua scheda video Modalità bassa latenza metti ultra Sincronizzazione verticale Noi non andremo a bloccare gli FPS Quindi gli FPS saranno illimitati Sincronizzazione verticale disattivato Tecnologia monitor compatibilità G-Sync Se il tuo monitor e la tua scheda dispongono di questa impostazione Velocità di aggiornamento quella più elevata sul tuo monitor Poi c'era un'altra impostazione riguardo alla frequenza fotogrammi massima Eccola qua mettiamo disattivato Poi se metti attivato la metti fino a 1000 FPS e fai ok Non è che farai 1000 FPS però almeno aggiungerai un po' di FPS Quindi sbloccherai così quel limite Quindi farai FPS illimitati E sperando di arrivare a più di 50 o 60 FPS Una volta fatto fai applica Una volta applicato queste impostazioni 3D su Palworld Chiudi così questo pannello e andiamo su Nvidia Profile e Spectre Scegli così il tuo programma Quindi Palworld Eccolo qua Come puoi vedere questo è il percorso file del programma di Palworld Puoi mettere qualsiasi gioco qua Scendi fino a giù fino a trovare l'antiagliose in questo qua Super sampling 0 per Alla fine deve finire con 10 Doppia A Eccolo qua E ci metti questo Poi se non ce l'hai metti il 20 Scendi fino a giù fino a trovare il textur filtering Mettiamo questo qua che è attivo Quindi noi lo attiviamo E sul textur filtering drive controller Questo qua metti on E sull'altro textur filtering qui metti più 0.8750 Puoi sempre ma sempre abbassare di più la textur sul gioco Se non ti basta questo più 0.8750 Puoi mettere anche il più 1350 e lo metti pure qua Una volta fatto fai applica Applici queste impostazioni Se non ti piacciono puoi sempre ripristinare le impostazioni Qua sopra Chiudi qua E adesso andiamo a fare delle modifiche su Power World Come puoi vedere La grafica è cambiata anche Più aggiungendo così anche le opzioni Quindi se opzioni vai su grafica Puoi anche abbassare del tutto la grafica sul gioco Campo visivo metti 90 Il più alto che ti fa mettere Su dove sta FPS Ma se metti il limitato V singolo disattivi Perché se metti su on ti blocca così gli FPS Come si metti ilettrico La pagina loro D'acqua Ah Hofuент 마 La pagina loro D'acqua D'acqua perché se metti su v-sync ti bloccherà così gli fps facciamo così alcune modifiche richiedono il riav e tu riav il power world ed eccolo qua ovviamente se non dovesse bastare questa impostazione chiudiamo se non dovesse bastare tu basta che vai direttamente su local app data quindi direttamente su tasto windows più r fai su esegui percento app data percento fai ok vai in app data local scendi fino a giro fino a trovare la cartella diretta cartella pal eccola qua save config windows game user settings qui modifichi così la tua grafica quindi le tue impostazioni grafiche qui togliamo un attimo scusate per il documento scendi in quale di qua da 2 metti 0 qui puoi anche modificare la risoluzione mettendo 1280 720 e basta una volta fatto fai salva chiudi qua mostra altre opzioni proprietà solo lettura e fai ok quindi se questo video ti è stato utilissimo riguardo a boostare così gli fps sul pal riducendo così la grafica sul gioco e riducendo così anche il lag e sperando anche di arrivare a sopra i 50 o 60 fps su pal world iscriviti lascia like e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo video ciao ciao